Buongiorno ragazzi, questo purtroppo è uno di quei video che io speravo di non dover mai caricare sul mio canale se avete visto il telegiornale sicuramente sapete che a Genova, che è la mia città, c'è stata una tragedia perché è crollato un ponte che attraversa un tratto di autostrada A10 questo ponte si chiama Ponte Morandi ed è praticamente il tratto di autostrada più importante per noi che abitiamo a Genova ci sono stati dei morti, ci sono stati dei feriti questo ponte è crollato in una zona industriale e ringraziando il cielo molte fabbriche, molte aziende in quel momento erano chiuse per ferie perché è la vigilia di Ferragosto però comunque ci sono stati dei feriti, ci sono stati dei morti ed è stata veramente una cosa che mi ha lasciato senza parole quindi io questo video lo volevo fare semplicemente per condividere con voi questa tragedia che è successa nella mia città ovviamente questo non è un video di cronaca io non starò qui a raccontarvi nei dettagli quello che è successo perché per queste cose ci sono già i telegiornali ci sono dei video comunque fatti da professionisti che sicuramente vi possono dare molte informazioni dettagliate vi possono comunque diciamo dare un quadro della situazione molto meglio di quanto lo posso fare io però io comunque ci tenevo a fare questo video perché sono di Genova perché amo la mia città e perché volevo condividere con voi questa tragedia è successa veramente una tragedia io conosco delle persone che abitano comunque lì vicino ho dei parenti o degli amici o dei conoscenti che abitano nelle zone circostanti per fortuna nessuno di loro è rimasto coinvolto però sono comunque rimaste coinvolte tante persone ci sono dei feriti, dei morti e io non posso non essere vicina con il cuore alle persone che sono sotto quelle macerie che non si sa se sono vive, se sono morte che comunque lottano per sopravvivere e sono vicina anche ai familiari di coloro che hanno perso qualcuno in questo crollo io sono veramente senza parole sono abbastanza scossa perché comunque è una zona che io frequento abbastanza quella, in quella zona lì ci sono anche dei centri commerciali ad esempio c'è Ikea, Ikea è proprio a un passo da dove è crollato il ponte c'è Decathlon, c'è la Sogegros, c'è la Lidl io vado spesso alla Lidl e si trova in quella zona cioè ci sono veramente un sacco di luoghi che io frequento abbastanza spesso e abitualmente e solo qualche giorno fa io passavo proprio lì sotto perché qualche giorno fa ho deciso di andare all'ipercop e sono passata comunque lì sotto quindi non ho potuto fare a meno di pensare che avrei potuto comunque benissimo trovarmi da quelle parti avrei potuto trovarmi sotto al ponte o comunque essere in mezzo a quelle persone che purtroppo si sono trovate lì nel momento in cui il ponte crollava se lo sono viste proprio cadere davanti agli occhi e sono in questo momento comprensibilmente sotto shock quindi insomma è una cosa veramente brutta che è successa e io volevo fare questo video perché comunque sul mio canale ci sono dei video che io ho già caricato e ho già programmato e che quindi usciranno come al solito e sono dei video leggeri di intrattenimento insomma i soliti video che faccio io quindi far uscire il video di domani quello che è programmato per domani così come se niente fosse a me sembrava proprio una cosa terribile quindi ho voluto fare questo video diciamo in mezzo ho voluto metterci questo video perché mi sentivo comunque di parlare di questa cosa di questa cosa grossa di questa cosa enorme che è successa nella mia città perché non me la sentivo di far andare avanti i video così come li ho programmati come se non fosse successo nulla e quindi insomma ho voluto aggiungere questo video sul mio canale proprio per questo poi ovviamente questa è stata una tragedia però ragazzi purtroppo la vita va avanti bisogna comunque continuare ad andare avanti e quindi sul mio canale ci saranno tutti i video che io ho già programmato li lascio così non li tolgo comunque li lascio programmati come sono e usciranno comunque nei giorni a venire quindi voi li vedrete comunque apparire sul mio canale però ripeto volevo proprio oggi fare questo video perché insomma mi sentivo di di dover parlare di questa cosa sul canale di condividerla e di esprimere per quello che può contare perché davvero questa cosa non ha granché valore però esprimere la mia solidarietà per quelle persone che comunque si trovavano lì che in questo momento sono sotto shock quelle persone che purtroppo hanno perso qualcuno o che sono rimaste coinvolte in prima persona io devo dire che oggi da stamattina praticamente da quando è successo non faccio altro che sentire ambulanze che passano perché io abito comunque in una zona abbastanza centrale della città quindi la zona in cui è crollato il ponte è una zona di periferia e per raggiungere gli ospedali principali della città che sono San Martino l'ospedale Galliera l'ospedale Villascassi in realtà no perché rimane prima di casa mia però per andare a San Martino e per andare al Galliera comunque bisogna passare praticamente sotto casa mia perché sono appunto in una zona centrale e quindi è tutta la mattina che io sento ambulanze passare sirene polizia cioè è veramente una situazione snervante io vi assicuro che mi si stringe il cuore ogni volta che sento una sirena perché penso alle persone che sono rimaste coinvolte alla persona che magari c'è sopra mi chiedo se è viva se è morta se è ferita insomma è veramente una situazione brutta però ragazzi io vi dico che sto bene che non per fortuna non ero lì quindi insomma a me non è successo niente i miei familiari stanno bene le persone che io conosco che abitano in quella zona o comunque vicino a quella zona ringraziando Dio stanno bene quindi insomma diciamo che la mia famiglia e le mie amicizie non sono rimaste coinvolte però nonostante questo sono rimaste coinvolte comunque tante persone quindi io esprimo veramente la mia vicinanza e la mia solidarietà a queste persone che invece sono rimaste coinvolte per quello che può valere perché davvero non ha granché valore questa cosa però io comunque la voglio dire perché è quello che sento chiudo qua questo video magari vediamo vi lascerò magari passare delle immagini o nel corso del video o alla fine non lo so perché ragazzi sono un po' sconnessa mentalmente questa cosa mi ha un po' mi ha un po' scossa quindi insomma vi chiedo scusa se non mi vedete come al solito ma davvero la cosa che è successa oggi nella mia città è di grande portata quindi spero che vogliate essere comprensivi e capire il mio stato d'animo quindi diciamo comprendere se non sono proprio la solita di sempre io vi saluto ovviamente vi do appuntamento alla prossima continuerete come vi ho detto a vedere i soliti video perché li ho già caricati li ho già programmati quindi li lascio così come sono vi mando un bacio enorme e buon ferragosto a tutti a vedere i soliti Grazie a tutti.